Presidente Sebastiani, in conferenza stampa lei lo ha fatto capire in maniera chiara, il 4 giugno aveva già deciso Colombo. Sì, sì, avevo nella mia mente, soprattutto avevo chiesto al mister di attendermi perché volevo condividere questa scelta con le persone che mi affiancheranno, che ci affiancheranno, meglio che ci affiancheranno perché se no si sembra quasi sembra che il Pescara e di Sebastiani Basta invece ci sono tanti altri piccoli soci che comunque partecipano, che non hanno mai fatto mancare il loro rapporto e quindi che ci affiancheranno. Abbiamo atteso quel tempo che serviva, ci siamo confrontati, abbiamo parlato più di una volta, abbiamo deciso sulle due figure più importanti di una sonda di calcio, il direttore sportivo e l'allenatore, adesso partiamo e cerchiamo di allestire una rosa competitiva. È un tema sempre di attualità il fatto che, così è stato emerso in conferenza stampa, la città, la piazza non voglia Sebastiani. Lei ha risposto dicendo non è vero perché chi mi contesta viene sempre allo stadio, la contestazione nasce da altro, da cosa, Presidente? No, no, io ho detto che benvenga la contestazione, ma la contestazione deve essere fatta partecipando, nel senso come fanno i tifosi che magari sono quelli che ce l'hanno più con me, perché comunque vengono allo stadio, partecipano, aiutano la squadra, a quella gente là, anche se mi mandano all'altro paese dieci volte al giorno, io sarò sempre grato, io non capisco il motivo di una piazza che poi io vivo giornalmente, quindi incontro persone giornalmente, io tutto questo astio verso Sebastiani. Ma lei ha detto io so da cosa nasce, a cosa si riferisce? Ma lo sapete anche voi, lo sapete bene, perché probabilmente in un periodo storico del Pescara qualcuno aveva promesso qualcosa di più, poi non l'ha mantenuto e oggi quella gente che aveva affidato tutte le proprie, aveva dato la fiducia massima a queste persone, oggi magari per coerenza non vogliono tornare indietro, ma la realtà è una sola, che sono 13 anni che il sottoscritto porta avanti questa squadra con dignità, senza nessun problema, e soprattutto avendo creato qualcosa, oggi siamo in una location che è di proprietà del Pescara e credo che il Pescara nella sua storia non abbia mai avuto quello che ha oggi come società, quindi questi sono i fatti, il resto contano poco, poi i risultati purtroppo nel calcio, puoi vincere, puoi perdere, puoi vincere un campionato, lo puoi perdere, puoi retrocedere, puoi essere promosso, e quest'anno credo che ci siano state in questa categoria società che hanno speso molto di più del Pescara e sono lì a leccarsi le ferite come ha fatto il Pescara, per cui non è sicuramente semplice, è un campionato con un format discutibile, ma comunque questo è, perché su 60 squadre non possono fare un campionato dove salgono tre squadre dirette e ricomincia un altro campionato, però la realtà è che in questo momento funziona così, quindi ci siamo e dobbiamo accettare le regole e dobbiamo cercare, se possibile, di uscirne il prima possibile. Due battute rapide sulla squadra, Iacobucci in un'intervista ha detto mi era stato sostanzialmente detto di stare tranquillo sul mio rinnovo, ma sto ancora aspettando Pescara è la prima scelta. Mi dispiace perché con Alessandro ho un buon rapporto, ma con me non ho mai parlato di questo rinnovo, quindi non so con chi abbia parlato, ma al di là di questo, forse una delle persone a cui io avevo detto che comunque mi sarei seduto, era Drudi, ma sotto l'aspetto tecnico probabilmente ci sono altre idee, ma per il resto io non ho mai promesso ad Alessandro che l'avrei confermato. A maggior ragione perché noi abbiamo qui un portiere che ha fatto tanto bene quest'anno, che è un giovane di nostra proprietà, dobbiamo capire quale sarà il suo destino, perché se il Sorrentino dovesse rimanere a Pescara, credo che Iacobucci secondo sia un lusso che il Pescara non si può permettere, per cui tutto qua, ma credo che anche il ragazzo voglia trovare spazio, per cui io quando ho detto alla fine del campionato liberi tutti, liberi tutti, credo che l'italiano è una bella lingua, significa liberi tutti. Chi è dei giocatori sotto contratto che ha detto vorrei cambiare aria? Ma non è che l'ha detto, probabilmente ci sarà qualcuno che, non lo so, adesso noi abbiamo diversi giocatori con un anno di contratto, è evidente che se magari vanno dal direttore e gli chiedono di allungare i contratti e noi non abbiamo intenzione di fare questo, probabilmente ci chiederanno di andare via. E questo credo che, cercando di interpretare quello che diceva Delicari, credo che questo sia il problema. L'ultima rapidissima non ci farà nomi sulla società, ma è vero che i nuovi soci le hanno chiesto di vincere subito, sì o no? Voglio rispondere su questa domanda perché sicuramente l'ambizione c'è, però c'è un dato di fatto che io proprio in questa direzione ho impostato la trattativa, cioè io non ho chiesto soldi per me, ho chiesto soldi per la società, perché mettere soldi nella società significa poi di conseguenza fare qualcosa in più.